Io, 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 un giorno c'era Spiribollo, un uomo dal capello folto Andò sopra al supermercato per cercare un cibo salato Ma quando arrivò la cicogna, il direttore lo cacciò con un panino nella bocca Sì, sì, la lezione che abbiamo imparato oggi è che i beni vanno bene anche ai piccioni